E' molto importante, le parole sono importanti, soprattutto quando definiscono qualcosa per cui ci dovete poi mettere il portafoglio, cioè dovete pagarlo, vivendo lo zero buppo, lo posso anche comprare e dimmi che cos'è. Se ognuno vi dice una cosa diversa, fumosa, magari là dentro c'è poco, magari dentro c'è qualcosa che forse è poco tangibile, poco utile, cioè qualcuno vi deve spiegare che cos'è. E allora io provo a spiegarvelo a modo mio, dopo spero che qualcuno lo spieghi in modo diverso. E' un modo per spiegarvelo, siccome a volte non è così diffusa la conoscenza, ad esempio qua, quanti di voi sarebbero in grado di dirmi, non ve lo chiedo giuro, con certezza, però almeno saperlo, prometto che non vi faccio parlare, ma con certezza, essere sicuri di dirmi che cos'è un'automobile, c'è un mezzo con un motore, quattro ruote, perfetto. La stessa cosa definita del metaverso, cioè chi è in grado, secondo me, chi sarebbe in grado di dirgli, io te lo descrivo con certezza, se mi alzate la mano io giuro che non vi faccio domande. Nessuno? Ok, bene. Allora, ed è molto interessante questo, perché mi ricorda, quello che ho appena visto, mi ricorda, e non so se lo ricorda anche a voi, una vecchia storiella, che era quella dei vestiti magici dell'imperatore. La ricordate? Eh?